L'ufficio di presidenza regionale del Centro Studi Agricoli, guidato da Tore Piana, dopo due stagioni di chiusura, si è dichiarato favorevole alla riapertura della caccia a lepre e pernici in tutta l'isola. L'istituzione di otto ambiti di caccia, i famosi ATC a ferma Piana, crea imparzialità tra cacciatori privilegiati, che ha accesso alle riserve autogestite, e cacciatori che non ne fanno parte. Per queste ragioni ci siamo attivati per richiedere un parere preventivo sia all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, che ha l'assessorato regionale all'ambiente. Secondo quanto riferito dall'ISPRA, prosegue in una nota il Presidente del Centro Studi Agricoli, i censimenti svolti su queste due specie all'interno delle riserve autogestite, che rappresentano l'11% dell'intero territorio, sono considerati sufficienti per autorizzare la caccia su tutto il territorio regionale. Spetta ora alla Regione Sardegna e in particolare all'assessorato regionale all'ambiente, in concerto con il Comitato regionale faunistico, definire il calendario venatorio regionale. Come Centro Studi Agricoli, conclude Ettore Piana, vigileremo su quanto sarà disposto dalla Regione e ci attiveremo per proporre la modifica della legge regionale 23 sulla caccia in Sardegna, che riteniamo abbondantemente superata.